lordoni meno dieci eh meno dieci li state contanti i giorni lordoni che non siete altro meno dieci meno nove meno otto stia cattoni falliti dalla vita senza le arte né parte e mi piace che Bruno Vespa questo lecca culo di Rai Uno della televisione a Miraglia questo lecca culo di Bruno Vespa segna meno dieci stiamo arrivando siamo in una situazione che dal dal dopoguerra ad oggi dal quarantotto ad oggi non è mai accaduta e questi lordoni giornalisti di Rai Uno Rai Due Rai Tre e questo Bruno Vespa lecca culo conta anche i giorni meno dieci e intanto gli italiani stupidi italiani che accettano questa situazione ci vuole una rivoluzione pacifica e andare a Roma perché mi stanno prendendo per il culo e voi italiani stupidi non tutti perché molti la ragionano come lino polimeri siamo arrivati alla fame 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 ieri mi ha scritto una ragazza che si chiama Caterina che ha fatto un progetto per il sud resto al sud gli è arrivato da mille euro a venti mille euro di bollette sta chiudendo sta chiudendo l'attività ma non solo la cosa è incredibile ripeto e voglio eh ma anzi no facciamo una cosa siccome non vale la pena abbiamo duecentodiciannove persone collegate se non arriviamo a mille io non parlo non continuo non continuo per dirvi quello che penso di Bruno Vespa della Rai di Medeset questo lecca culo di Bruno Vespa guai che gli tocca a Berlusconi questo ancora questo morto che cambina ancora pensa di comandare e voi italiani dobbiamo andare a Roma meno dieci lo devono fare gli italiani contro sta politica di merda di accattori di vigliacchi di infami e nessuno dice ci hanno portato alla fame ci hanno portato alla fame ma vi rendete conto che ci hanno portato alla fame guardate il gas abbassate la luce un grado in più un grado in meno lavate di lotte schifosi che non siete altro vi ricordate una situazione peggio di questa peggio di quella che stiamo vivendo non esiste negli ultimi cinquant'anni questi buffoni pagliacci che non sono altri e voi e io parlo per tutti anche per le forze dell'ordine per i magistrati per la gente comune siamo ridotti alla fame oggi se non hai duemila e cinquecento euro per vivere muori di fame duemila e cinquecento euro il minimo per campare e no io continuo no vorrei continuare ma dobbiamo aumentare dovete condividete la diretta clicca condivido la diretta di lino polimeni ma se voi avete paura anche di condividere una diretta di condividere un video di scendere in piazza ma voi come volete fare le rivoluzioni come volete fare le rivoluzioni attraverso che cosa mi piace volete fare la rivoluzione dovete scrivere condividere farlo diventare virale e qui è complice se ci sono giornalisti come bruno despa che lucco che lecco nel culo a berlusconi perché gli presenta il libro o perché il parlamento 2 la camera 2 il senato porta a porta il senato schifoso che non sei altro ti permette il lusso con la televisione di stato pagata dagli italiani di dire che comandi tu che gestisci tu che sei il padrone tu chi te lo consente te lo consentono quei dirigenti della rai politicizzati saliti grazie al politico di turno si sono sistemati i 200 senatori in italia hanno parenti cugine fratelli hanno si sono sistemati i loro amici dopo il 25 settembre cari amici del sud questa gentaglia questi accattoni ci prenderanno a calci nel sedere lo avete capito sì o no avete una situazione reale come capito con mille euro già siete poveri mille e cinque ancora poveri e che cosa le imprese chiudono chiudono le imprese alzano le braccia non hanno soluzione non c'è soluzione e l'europa come risponde col presidente continuiamo contro le sanzioni certo bravi li pagano pagano tutto questo lo paga il popolo se tu politico non paghi nulla guadagni come euro parlamentare 30 35 mila euro al mese ma figurati se te ne freghi se ti ti aumenta di 2 3 mila euro il costo della vita intanto lo pagano gli italiani lo pagano gli europei lo pagano in prima persona le famiglie e questi ci dicono non continuiamo in questa maniera le sanzioni continua ma cosa continuano le sanzioni che qui sta ammazzando un popolo state ammazzando un popolo e voi italiani continuate a sopportare tutto questo io non ci credo ma non vi vergognate un pochino non avete rossore e poi vi lamentate non si vive più ma lo dite a bassa voce perché non vi deve sentire il vicino di casa che è politico o non vi deve sentire qualcuno perché vi chiara problemi questa terra è fatta di mala carne di criminali di mafiosi drachitisti camorristi e cioè vuoi dire è un bel popolo soffre dovremmo fare come i francesi che per la pensione per l'aumento della benzina scendono e fanno le vere rivoluzioni davanti al parlamento questa è la storia non ho più nulla da dirvi meno 10 e queste merda dei giornalisti dei programmi più importanti dei talk show che fanno ascolti di merda ascolti di merda fanno questi talk show politici 500.000 400.000 600.000 telespettatori ormai non li guarda più nessuno continuano a fare il lavaggio del cervello questa gentaglia schifosi complici di questo sistema e noi continuiamo a chiudere gli occhi a non vedere più nulla ma vi rendete con io sono contento di parlare al popolo di chi non ha la voce tu sei uno di noi sì del popolo sì di parlare a nome per conto vostro questi vigliacchi io non vado a votare e non vi permettete di fare paragoni con altri parlamentari e segretari di partiti non meritano il voto degli italiani grazie 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 grazie